Le AMPAS sono una parte storica di questo volontariato, un sistema che dice grazie al volontariato di esistere da anni e quindi assolutamente il Dipartimento che in qualche modo rappresenta un po' l'unitarità del sistema è presente in questa giornata di festa proprio per testimoniare quanto si è fatto insieme, quanto questo volontariato sia anche cresciuto nel Servizio Nazionale di Protezione Civile per anche attestare le cose che abbiamo fatto e stiamo facendo e anche programmare possibilmente quelle che faremo insieme. Beh sì, dobbiamo convivere con il rischio, oramai credo che è un mantra quasi che andiamo ripetendo ogni volta che ci incontriamo nel territorio. Un volontariato è un volontariato del territorio e quindi è importante proprio anche nell'attività di formazione per aumentare la consapevolezza del cittadino quindi non solo un volontariato di emergenza, anzi un volontariato che insieme al cittadino costruisce quella che è la capacità del cittadino anche di comprendere il proprio rischio e di affrontarlo al meglio.